ciao a tutti andiamo un po' oggi c'è la batteria un po' scarica speriamo di farcela vediamo un po' chi si collega per il corso di oggi shbam vediamo un po' due in collegamento chi siete oddio che scato il telefono allora vediamo un po' scrivetemi ragazzi scusate sono arrivata proprio precisa in palestra perché avevo dimenticato il telefono a casa allora vediamo un po' chi c'è scrivetemi intanto metto la musica oggi corso di shbam come ogni giovedì alle 6 ci siamo siamo carichi pronti va bene ragazzi io intanto metto un po' la musica ok voi scrivetemi eh siete pronti? c'è qualcuno? Mara Maria Antonietta faccio l'appello eh dove siete finite? eh non mi sento più non mi sento più Mara Antonietta tu sei sempre formelli? aspetto ancora le tue polpette? allora vediamo un po' parla sempre di mangiare in palestra ragazzi ragazzi ci sono eh sto mettendo qui il microfono e poi vengo da voi ok bene bene allora vediamo un po' shbam 45 minuti di dance dance si balla scateniamoci eh io arrivo vedo un po' che c'è collegato naturalmente la lezione la potete fare anche eccomi ok al microfono si è collegato allora vediamo un po' se c'è qualcuno collegato vediamo ecco ragazzi iscrivetemi eh io è vero che l'altra volta mi avete scritto io non riesco a volte a vedere i i commenti provate provate un po' a scrivermi anche a dirmi ciao che fai? perché l'altra volta non riuscivo a leggerli invece ieri a pranzo ora di pranzo invece riusciva ciao ecco ciao Simo eccoti pronta per la lezione di oggi? oggi si fa l'ultima revisa ehm sì perché una ragazza mi ha scritto che aveva piacere nel rifare questa revisa e quindi siccome anche a me piace e fa piacere rifarla mi accontento ok? siamo pronti? Roberta che fine ha fatto? non la sento più? è andata già in Sicilia? allora ragazzi siamo pronti? sì ci siamo io devo mettere un po' che scatta mamma domina che forse oggi naturalmente senza telefono come si fa a fare lezione? avevo dimenticato il telefono a casa sono venuta sono venuta a ritornare a casa riprendere il telefono che è avevo 25% di batteria adesso non so se riuscirò a fare lezione per tutto il tempo casomai lo metto sotto carica ragazzi se vedete spostare il telefono sono io che sposto il telefono perché infatti ho la posizione anche in telta batteria perché c'ho la batteria a Skype ora vengo a leggere che è Simona visto che è scritto un altro messaggio vengo a leggere un po' cosa è scritto allora bene vediamo un po' Simona sì sì ok sì significa che andate in sicile Roberta ok bene ragazzi iniziamo ok divertitevi ok se qualcosa non mi riesce dovete benissimo non fare nulla poi siete a casa non mi vede nessuno ma anche se mi vedesse qualcuno non fare niente ok non siamo alla scala ok ragazzi metto la musica e si parte eccoci playlist playlist tutte le playlist tutte le playlist ecco ok provata ok provata eccoci eccoci ora sì noi la collegiamo ok ok bene ragazzi iniziamo eh finalmente pronti pronti percone 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 Andiamo a tutti i nostri amici ora su braccia in alto occhio e in alto e in bacanea questa tena e in pazza e in alto o che è un dia di sol allegria di corno e un giudice ancora ancora sinistra ok allora 4 3 2 attenzione ragazzi si va male ancora 3 3 andola andola 2 2 2 angola 3 8 Lento Occhio Su le braccia Occhio Ancora Ancora Un 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 Perchè! Ragazzi, come prima! Provi! Quattro! Provi! Dui! No, andiamo! Pa, pa! Lecci a noi! Su! Sempre su! Andora! Andora qui! Dai che sono gli ultimi! Perchè! 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 Ok, ragazzi! Ok, riscaldiamo in un lato! Ok, facciamo il secondo lebrano! E' una partita pesca! Aspettate! Ok! Sera il segretto! Occhio, ragazzi! E' una, una! Qui! Qui! Quattro! Due! 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 Tristro! Doctro! Andiamo! Doctro! 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 Centrale! Angola! Ros VO2! Un altro! due! e perchesse! Un altro! Sera! Forse! Ahplastro! avanti! Don't go, don't go Andere Andere, don't go Andere Andere, qui Don't go, don't go Luchy Ragazzi Vieni le mani Vieni le mani Andere, con i miei mani Un braccio spin, otto la resta nella litora E qui, provieni qualcosa Stanzo per il peggio Occhio Viedro 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 Viedroce Andere 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 Vienro Viedroce Viedroce Viedro Andere Viedroce 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 6 5 6 6 3 3 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 Ok 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 Ofro Qui, dovevo, scuole, qui, scuole, qui, qui, allora, occhio ragazzi, e qui, occhio, e qui, ancora te lenti, e adesso 4, 4, 3, 2, 8, salta, trovo, occhio, e come prima, lento, 4, 3, 2, 9, 3, Upo, sc Potter, Hangi ,22, 9, 3, 2, none Come pure. Ando. Regatti, come as well. In the drum roll. In onde? Short! Come on! Come on! Get back! PING! Up you! Vieni bene grazie Si bene Don'amma Vieni bene Aspettiamo Aspettiamo Come on Come on Aspettiamo Aspettiamo Voi Voi Saga Energia Buonanotte Aspettiamo Scendi i capelli Se lascia andare Se sei un uomo e siete in alto Metti il cappello Ragazzi Come va? Occhio 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 Chiudo Occhio Occhio Mocchio Legguit piedal I cani Pacti Romuald Woi Adol Ma P P G6 G6 G7 G7 G8 G7 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 Giorno a te. Cambio. Giorno a te. Pino dolce. Due, due, una, suu, suu. Lì andi. Vieno. Due, due, una, suu, suu. Due, suu. Due, due, una, suu, suu. Due, una, suu. Suezzi matro. INGITRkay, pa Whilst you're! Rif, whip, come up, op jaw! Bane drwommm . Limp, whip, 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 almost off, nigga, Nickel Meganlin, Hindrana, hop! performs who we've got together. Iniziamo qui, pian piano, due, due, uno, su, bene, grazie! Due, due, uno, su, su, e due, uno, su, su, e un'indica di soli a bollanda, andiamo, due, due, uno, su, su, due, uno, su, e due, due, uno, su, su. Andera! Stop! Stop! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Sembra la glida! Iniziamo! Mima! Pagano straggiora! Trici attra! Oh yeah! 2 3 Pagano! 3 3 1 Ancora per un gol! 2 1 3 Pagano straggiora la glida! Ragazzi tranqui! Andera! 3 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 3 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 4 4 5 4 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 11 12 12 10 10 10 11 11 11 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 15 15 15 16 16 15 16 17 17 17 18 18 18 19 18 19 19 19 20 20 19 19 20 20 20 20 20 20 20 22 20 21 22 23 23 23 24 dietro e continuando su divertiti e così uno, due, tre uno, due, tre ora un segretito uno, due, due, due andi preparati dietro si lancia stanti dietro andiamo andiamo dietro andiamo andiamo qui e qui andiamo andiamo e io speriamo la patricio e qui andiamo occhio uno, due, tre due andiamo 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 e qui e qui insieme e qui andiamo 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 e qui andiamo e qui andiamo Andere Liedero No No Ragazzi Ragazzi abbiamo fatto una spostanza Io controllo un po' la batteria che puntuali Oggio, ci sono due giocando No ragazzi devo spostare devo spostare per fortuna portato il caricabatterie vediamo un po dove posizionarlo metto la bottiglia dietro penso di sì ragazzi sì mi vedete bene è una prospettiva diversa ma l'importante il telefono ok bene ragazzi bevete un sorso d'acqua che si continua fino alla fine poi abbiamo body pump con fede ok 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 ragazzi il brano latino preparate a scatenarmi ok ok ragazzi destra qui stop con la fronte e qui ancora destro stop qui Occhio, sciogliere, ancora andava, qui, pam pam, dietro e avanti, dietro e destra, sciogliere, ragazzi dietro, 4, 3, 2, maccia avanti, mandalo dietro, sciogliere, e qui, 4, avanti, andiamo, dietro, avanti, ancora, occhio, le braccia, ok, noto di più, qui, occhio ragazzi, spalla, spalla, sciogliere, e dopo, spalla, spalla, ancora, questa notte che non fosse mai dritto, ha giocato molto la visita, continua, 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 spalla, spalla, allora, e adesso in più invece, sciù, sciù, giù, oh, sciù, sciù, e poi non ti prendo la visita, ascendere, e quindi non ti prendo la visita, sapaz, ALT 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 stop e qui su and then look e qui non si non si vede e qui e qui e qui and then and then e qui super e qui ok ma e qui 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 che e qui e qui e qui e qui e qui e qui quando avuta e via e via in cima e via 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 e l'esprimato e l'esprimato e l'esprimato ragazzi atto di città dentro l'esprimato e la scelta l'esprimato e l'esprimato e l'esprimato e l'esprimato si scegliamo preparazione schiacciare Siamo in giro. Grazie a tutti, grazie a tutti. e qui si sentono proprio che è passato ok ecco ragazzi vi vedete da questa persettiva perché non lo sceglie occhio avanti, lato e qui passo il tuo andro avanti, lato e passo andro avanti, qui passo sinistro passo qui aggiungo e qui andro andro avanti, destra sinistra avanti, lato uno due dietro avanti, lato avanti, lato e il tuo giro con l'esberto dietro e qui avanti, lato avanti, il tuo giro con l'esberto e qui avanti, lato faccio il tuo giro con l'esberto e qui avanti, lato e qui avanti, lato metti un po' di spire e qui avanti, lato e qui dietro dietro avanti, lato avanti, lato avanti 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 Trigono, trigono, residenzio, per la moleste, metti quanto, quanto, ragazzino, un po' più veloce qui, su, ancora, qui, un po' più veloce qui, su. Trigono, trigono, passi qua, per l'uomoa, con il impegno, metti, dietro, зав전, trigono, salto, 8, 4 chiusi fa, dietro, dietro, e salto, quanti salti? Grazie a tutti il mondo qui un'abili continuiamo un'abili e su un'abili un'abili stai vivendo del sol del sol del sol continuiamo un'abili forte e spazio pam pam verso il giro ancora giro pam pam giro ancora giro su giro verso il giro pam pam giro ancora prima che esprim uno due tre un'asso 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 pam pam un'asso e una moche pam un'asso 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 il france il france il france la destina a me a qui a me e i Edo altro Acceidenza Cosa 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 Calma 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 Soli Calma Gagno Vinceniale Destro Vietro o no Viene passi in picco di bambini E qui dietro o no In un'altra E qui no E qui no Or 했는데 Altra Vieni passi in picco di bambini Vieni passi in picco di bambini ится Butto Andamo Andiamo L'agga 5 , Piazzi Ora, ritmo, 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 e pizzo, a fronte, centrale, vanno verso, e girare, a torta, e pizzo, e a noz, supello. Ora, ritmo, 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 ritmo Cambio. Ragazzi, rimanderò. Stop. Ok. Ce l'abbiamo fatta anche con la batteria scarica. Ok. Sì, da questo è importante perché il telefono oggi mi ha abbandonato, aveva la batteria scarica e quindi ho dovuto cambiare posizione. Forse però è meglio. Sbagliamo che forse non è meglio. Ok. Ragazzi, sì, da questa condizione dovevo partire la batteria e la scarica. Bene, ragazzi. Buona giornata. Ci vediamo. Forse è la prossima settimana? Non lo so, guardate un po' il planning. Ragazzi, mi raccomando, le lezioni sono registrate. Io ritengo, nell'incertezza. Vi auguro. Buone feste. Sarà una data di verso un po' per tutti, lo sappiamo. Però mi raccomando, cerchiamo di essere così tipi, di allenarci. E niente, rimane un grosso bacio e auguro lì. Ciao ragazzi!